I cani di guerra, i più fidati amici dei soldati, condividevano ogni giorno la dura vita dell'uomo. Che trasportassero messaggi, salvassero feriti o scovassero mine, portavano sempre a termine il loro comune. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale, eccoci qui di nuovo con il nostro Valiant 3, proseguiamo da dove ci siamo lasciati. Vado un attimo qui, io di solito vado sempre dalla parte opposto per vedere se magari c'è qualche collezionabile, ogni tanto ce li imboscano da qualche parte. Ok, missioni si abbataggiano, andiamo anche qui. Momento, arrivo, arrivo, non ti incazzare. Non ci sono un'interazione. Proviamo un primo qui, non vediamo che qui ci sono collezionabili. E da quest'altro lato, aspetta, no, stanno qua. Moment, secondo me, vengono fuori. Attenzione, quick time event, panico. Eh? Cos'è? Attenzione. Ok. Ok. È ancora vivo, dai. Eh, più o meno. Alla macchina, alla macchina. Andiamo all'ospedalizzo, a Michele. Attrazione. Attenzione. Staccano per dargli da bere. Aia. Ok, il proiettile è andato. Ok Medikit Moment, aspetta Fammi vedere se Ho capito No, lo trovo sopra Ok O fuori Vabbè, io vado sopra prima Andiamo a prendere anche i collezionabili Siringa di vetro Una siringa utilizzata Dalle infermiere per iniezioni endovenose O intramuscolari Gli aghi non erano sottili come quelli di oggi E l'iniezione era dolorosa Ma in quegli anni la medicina stava comunque compiendo enormi progressi Lei mi dice qualcosa Ok, dall'altro lato Vabbè, comunque non mi metto giù qua C'è qualcosa Mi parte feriti Ancora feriti Questa Ci interessa Macchinario per raggi X La tecnologia dei raggi X era disponibile dalla fine dell'Ottocento Ma ben presto se ne scoprirono gli effetti collaterali I radiologi indossavano guanti, grembiule, il metto e occhiali Tutto di piombo Negli ospedali militari il loro ruolo era fondamentale Ed essi trascorrevano intere giornate a radiografare i feriti Ok, aspetta prima di controllare se c'è qualcosa qui dentro No Vado, vado Attenzione No Aspetta, prima quando senti che dice la signora che non ti vado fuori Qua non c'è nient'altro Aspetta, aspetta, secondo me è pure a tempo qua perché Eccolo qua Aspetta, c'è dell'altro però non è vero Andiamo subito, va prima che Schiatta Aspetta, no Panico Ripa la strada indietro Un momento, un momento Resisti Carl Resisti Aia No, dall'altro lato Un fottuto casino Eccomi qua, eccomi qua Dai che ce la puoi fare Eeeh No Sempre più attaccato di sangue Possiamo fare, dai che gliela fanno Aia Che ogni tanto top piano però Attenzione Aia Ehi Aia Panico Eeeh vabbè Ci sta iniziando a impattaccare tutto Ok Ok L'ho fatta Ok La sola vista di suo figlio bastò a Karl per cancellare tre anni di guerra ed esilio. Dopo settimane senza notizie di Emil, Marie ricevette infine una lettera del padre. Emil, c'è io. Ok, prendiamo allora il controllo di Emil. Momento. La giustizia militare. Quando erano in servizio i soldati erano soggetti alla giustizia militare. 2500 uomini furono condannati a morte per atti di disobbedienza o diserzione. 650 condanne furono effettivamente seguite. Con il perdurare del conflitto i politici cercano di arginare la pratica delle esecuzioni, soprattutto nel caso delle fucilazioni che dovevano servire da esempio per il resto della truppa. Ciò nonostante, più di 50 soldati furono giustiziati ai primi ammutinamenti del Keming. Grazie. 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 Grazie a te. Grazie a te. Potrebbe salvarmi. La corte marziale mi ha condannato per la morte di un ufficiale. Non era mia intenzione ucciderlo, ma la guerra rende folli. Ho combattuto per la patria e la libertà. Il mio onore è intatto e non devi vergognarti delle mie azioni. Mentre lascio questo mondo, ho un solo rimorso. Non ho riportato a casa il tuo Carl. Spero che riuscirai a perdonarmi. E se il volere di Dio è quello di separarci in vita, ci incontreremo di nuovo in cielo. Ricordami nelle tue preghiere. Il tuo papà. Per sempre. Anche se i loro corpi sono tornati da tempo alla polvere, il loro sacrificio è ancora vivo. Dobbiamo onorare la loro memoria per non dimenticare. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di Valiant Earth The Great War. Il titolo della Ubisoft è veramente molto, ma molto bello. Devo dire che è uno dei migliori titoli che ho giocato in quest'anno videoludico. In realtà devo dire che... Ah ok, finito i titoli di coda. Molto bello sia dal punto di vista artistico che anche dal punto di vista narrativo. Oltre al fatto che comunque è un ottimo titolo che riesce a mischiare il gameplay con una storia ben realizzata. Soprattutto perché prende spunto da quello che è stata realmente la Prima Guerra Mondiale e ci fa anche, tra virgolette, ripassare un po' di storia. Quindi con i documenti reali dell'epoca, con le lettere di quel periodo, con i collezionabili che comunque ci riportano alla memoria quelli che erano gli oggetti magari quotidiani di quel periodo, la storia di quel periodo. E forse è il gioco che effettivamente ti fa vivere la guerra per quello che è indipendentemente dalla tipologia di gioco. Comunque di solito siamo abituati a vedere giochi dove ci sono eroi cazzuti e cattivi e dove si va avanti sparacchiando a destra e sinistra senza realmente andare ad analizzare quella che è appunto la guerra, la vera guerra. Quindi la tragedia che c'è dietro, le vite delle persone che ci sono dietro e questo Valiant Earth lo fa in modo eccellente, devo dire. Quindi spero che vi sia piaciuto. A me è piaciuto veramente tantissimo. Per adesso, come detto, ripeto, è il miglior gioco che ho giocato durante quest'anno e come detto riesce a farci vivere la guerra in modo molto profondo, molto reale, molto fedele a quello che è realmente la guerra. E come dice Emil, la guerra ci rende folli e comunque non vanno dimenticate quello che è accaduto. Quindi questo è un gioco molto ma molto istruttivo, oltre che molto profondo appunto. Spero che vi sia piaciuto, spero che sia stata una bella esperienza anche per voi e vi ringrazio naturalmente tutti quanti per aver seguito questi video. Come sempre commentate per farmi sapere la vostra. Condividete il video se potete, seguitemi anche sulla pagina Facebook. Vediamo cosa ci dice qui. La sua fama era infinita. Ok, era una pillola così con Freddy che salutava le navi. Vabbè, comunque vi dicevo, vi ringrazio tutti per aver seguito questa serie. Fatemi sapere se vi è piaciuto il gioco. Il titolo, come detto, secondo me merita. Merita assolutamente di essere acquistato. Io, anzi, volete, in descrizione io metto sempre il sito dove acquisto i giochi. Magari lo trovate anche un po' in sconto. Di solito lì si trovano le Ikea, un po' meno. E niente, come detto, vi ringrazio di nuovo per l'ennesima volta. Perché ci tengo? Perché comunque è un gioco che, non so, non mi aspettavo magari fosse seguito così tanto. Perché di solito ci si... Molti vedo che tentennano quando c'è un gioco magari a scorrimento 2D. Un gioco, tra virgolette, più profondo. Un gioco dove si deve leggere molto, molte note. Quindi, diciamo, non è propriamente, tra virgolette, un gameplay divertente che ti tiene attaccato allo schermo. Però questo ci riesce facendolo in modo estremamente istruttivo, estremamente profondo. Quindi, bellissimo gioco questo Valiant Earths. Mi raccomando, rigiocatevelo anche voi per conto vostro. E spero che la Ubisoft produca un po' più spesso titoli di questo genere. Perché sono veramente molto, ma molto più meritevoli di altri titoli che invece vengono comprati e, diciamo, acclamati dalla folla. Ma invece non meriterebbero la rilevanza che questo titolo dovrebbe avere. Ci vediamo noi con le prossime serie. Allora, di nuovo, grazie a tutti. Un saluto a tutti da Queltaleale.